Ecco, bravo. Renditi utile. Tu bastardo! Meravoto! E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale decima missione di GTA IV, The Lost End Hamnet. Siamo con Offroot per Thomas Tubbs. La scorsa missione è andata male perché avevo poca vita, avevo preventivato di morire e sono morto. Succede solo che il gioco non ti aiuta perché non ti mette dei kit medici in giro e quindi sei palesemente inculato. Ma oggi è momento di voltare pagina, siamo quasi a metà della storia perché sapete che gli spin-off sono ovviamente più corti rispetto alle storie principali. E torniamo da Thomas Tubbs che due mesi ogni faccia ha fatto vedere il suo coso di cui non eravamo assolutamente interessati. Tutto dopo il vostro like, la vostra iscrizione e il vostro supporto. Vamos ragazzi. Ok, ce l'avamo lasciati qui con Johnny. Vieni. Sì ma non puoi mettere via l'arma e poi chiamare il taxi, mamma mia. Vieni prima che diventi verde va. Putta fuori. Stai a testa a ginocchio con le cuffie. Jim. Fra. Fra. Non stai bene. Non stai bene, fatelo dire. Comunque ci siamo, vicino sempre, a casa di Bernie Crane, off-root. Oh, avete fatto amicizia, eh? Ma non stai bene, è ero. Sì. Hai, devo chiedere di una cosa. Tu ti davvero apprezzate la vita? Non. Non, ma non. Quoi di sapere? Non. Quattro. Quattro, non ti. Quattro, non ti. Quattro. Quattro. Sì. Quattro, non ti. Quattro, è una cosa smarter. Eh? No, ognuno l'altra volta no, eh Matto Mi nasciuga mano, dai, il bagno turco Bravo Mi nasciuga mano, dai, io sono bene Mi hai ragione? Oh, ho diventato la terapia Change di terapia Oh, ma ho visto il Dr. White Since I was seven Matto Ok, cosa posso fare per te, ma'am? Non sono davvero tracciato per questo Ma hai detto che era urgenta Si, beh, c'è una scuola clerica Nel più profondi del cittadino Un gruppo di civili Voters hanno, in particolare, stato preso in LCPD Custodale Beh, c'è qualcosa che puoi fare per te stesso, man? Un po' di stranze o qualcosa? No, non ho capito, non di supporto Way too far down the line for that Too much red tape Yadda, yadda, yadda No, tutto che hai bisogno di sapere è che Questi genitori Sono in un trascendio di trascendio E tu, mio amico, devi liberarli Oh, missione Stile colpo al GTA Online Non ti alzare Lascio che a mano Bravo Si sa mai Ecco, bravo Renditi utile Brutto bastardo Era moto Brutto bastardo Brutto bastardissimo Pezzo di merda Destination, vai Preciso Insomma, pareva essere Ok, credo che bisogna andare a prenderlo a piedi Può aspettarlo, forse Guarda, era un crimine di trascendio Minime trascendio pagano i tuoi salari Stai lungo dal trascendio, non? Tu, iubi, iubi Stai pensi che sei meglio che i ragazzi come me, eh? Tu dovresti essere spostato Vedi cosa hai fatto per questo ordine Organsi di mani non si trascendono come questo Voi Ok, l'autobus dovrebbe uscire Credo Non si muove Ora, io c'ho in mente un'idea Posete vedere ragazzi che Mi so complicare la vita per niente Te però potresti arrampicarti, eh? Vero Perché se ci sono queste aperture Merda! 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 Se ne va di là, no Fermati! Fermati, fratello Fermati, fermati Fermati Fermati! Non ci voglio credere Nooo! Nooo! Non posso rubare una macchina! Fermati, fra! Fermati! Fermati È stato fermo mezz'ora Sto bastardo Ok Vedo come c'è da fare Perfetto Cazzo voi Oh ma L'arma 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 Gioco fatto malissimo Va bene Ci mancava il ciccione Tre stelle Semina gli sbirri Bella Mi fai ridere così Ok 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 Dai Buono No Che palle Eh ma va che vanno persi Ma raccontami qualcosa di nuovo Mamma mia Ste cose Che non curvano Però Per fortuna Ste tre stelle Sono più clementi Perché Se tipo Prendi tre stelle In free mode Non scappi Cioè È difficilissimo Di qua Perfetto Vaffanculo Che culo Se ci fossero degli obiettivi Per questa missione Li avrei falliti tutti Giuro Ci mancava il ciccione Che ti prendeva a pugni Ma Perché I doubt Those who remember me Think it a great idea That I am about to be Roaming free again Okie dokie then Vabbè Poi dopo Tutto tranquilli Dai Su Tra l'altro Abbiamo fatto Una missione qua Con Johnny Se non vado errato Mi pare Eh Ma magari Mi sbaglio Era una delle prime Tipo Sei tranquillo T'ho visto Già ho visto Più che altro Il segnalino Tutto Che te Cagata di missione Buon voyage Ok Ok beh 5.000 Tipo Ho raddoppiato Il mio budget Nei miei taschi Grazie a questa missione La prossima Sarà per Billy Gray Comunque I tuoi amici I tuoi amici Stubbs Buona luck Sì Credo che Non ti preoccupi Questi ragazzi Non hanno bisogno Non hanno bisogno Sì Sì Deve aver visto In 1973 Credi Una corta Recessione E una trip A Panama Sì 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 Adesso Vabbè Andrò A rifugio Perché non è anche così Lontano No Billy Perfetto Perfetto Allora mi approccerò Da Billy Che è a rifugio Quindi è perfetto Come da scono Shooter Cazzo è Francis McCreary Una chiamata così che non ha portato a niente È fantastico, perfetto Ma sì Facciamo schifo Inculato Nessuno mi ha visto, vero? Ok, bene Allora noi ci lasciamo qui Grazie della visione BB Belli Noi ci vediamo alla prossima Con Billy Gray This shit's cursed Grazie a tutti Like, iscrizione e attivazione della campanella Alla prossima Bacione, date A buona prossima Superbiamo A buona prossima Dificio Grazie.